Super Terra, la nostra casa. Prosperità, libertà, democrazia, il nostro stile di vita. Oh, salve! Ma la libertà non è grata. No! Saltissima libertà! No! Ti sembra familiare? Scene come queste stanno accadendo in tutta la galassia, proprio ora. Tu potresti essere il prossimo. A meno che tu non prenda la decisione più importante della tua vita. Dimostra a te stesso che hai la forza e il coraggio di essere libero. Unisciti agli Hell Dive. Diventa parte di una forza di pace d'elite! Scopri nuove forme di vita esotiche. E diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe. Diventa una leggenda. Diventa un Hell Diver. Diventa un'eroe. Diventa un'eroe. Diventa un'eroe. Diventa un'eroe. Grazie a tutti.